Ora su TikTok, se una tua storia va particolarmente bene, la potrai condividere come post. E vediamo ben 8 recenti novità che riguardano TikTok. Prima novità, prima di pubblicare un video, se vai in altre opzioni o impostazioni avanzate, hai la possibilità di pubblicare il tuo video come modello. Ci sono dei requisiti da rispettare, però in sostanza altri creator potranno utilizzare il tuo video come loro modello. Seconda novità, TikTok si sta concentrando sulle funzionalità di messaggistica privata, quindi ora tutti possono chattare con tutti. Questo però al netto di alcune restrizioni legate all'età e alle impostazioni sulla privacy. Terza novità, se crei contenuti utilizzando l'intelligenza artificiale, dovrai segnalarlo sempre prima di pubblicare il video selezionando questa voce qui. Altra novità riguarda le serie di TikTok. Quindi utile soprattutto per i creator, cliccando qui c'è una nuova sezione con utili, suggerimenti per iniziare. Altra novità che riguarda le playlist, ora volendo puoi aggiungere ai preferiti anche l'intera playlist. Altra novità, a partire da ottobre l'impostazione per suggerire il tuo account scomparirà. Nel momento è ancora possibile gestire questa impostazione andando in privacy. Suggerisci il tuo account ad altri e poi da qui puoi regolare l'impostazione come meglio preferisci. Altra novità riguarda le ricerche, ora cliccando su gestisci, puoi disattivare i suggerimenti di ricerca che sono in funzione delle tue ricerche. Avevi notato tutte queste novità?